Oh hallelujah, ti ringraziamo, ti ringraziamo, ti ringraziamo, ti ringraziamo Signore, oh per la Tua gloria, per la Tua gloria. Nel nome di Gesù, l'opera di Dio, ritorni a manifestarsi, oh che gioia, che grande gioia vi sarà, quando lo Spirito di Dio riavrà la sua libertà. Quella che è stata limitata, dimezzata, condizionata, che è stata ostacolata, Signore, che abbia nuovamente la sua libertà nei nostri cuori, nei nostri pensieri, davanti agli occhi nostri, nel nostro cammino. Alleluia, alleluia, mentre ti ricordi di quelli che soffrono, per amore di Cristo, che lacrimano Signore, che si trovano in gran distretta, raggiungili Signore, raggiungili nelle prigioni, raggiungili, Signore, raggiungili, Signore, sotto la tortura della persecuzione, raggiungili le famiglie del tuo popolo, che si trovano privati dei loro figli, chi della propria moglie, chi della propria moglie, chi del proprio marito, ricordati di quanti soffrono veramente per Cristo. Signore, eppure ti sono rimasti fedeli. Quindi, abbi pietà, signore, abbi pietà, signore, abbi pietà, signore. Vogliamo ringraziarti, vogliamo ringraziarti, vogliamo ringraziarti, vogliamo ringraziarti. Oh, alleluia, alleluia, oh, alleluia, Spirito Santo, che ognuno riprenda le primiere forze e se ne rivesta ancora per grazia. Possedendo la fede, la fede nella tua parola ed ogni grazia te la chiediamo nel nome meraviglioso di Gesù e nell'ubbidienza adesso, benedetto in eterno. Amen 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 Numero 46 della pagina 37 Alleluia, alleluia, alleluia. Gloria al nome del Signore, alleluia, grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio, alleluia, alleluia, benedetto il nome del Signore. Grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio, grazie a Dio. Grazie a Dio, 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 grazie a Dio Gloria, eterna gloria, gloria, odore, altrimenti al Signor. Divina, eterna, serve non sentire, ruba in scudo al nostro cuore. O si avvanta, Signor, tua volontà, sulla terra come in cielo. Nacci oggi, pane e sacietà, quotidiano del Padre. Gloria, gloria, eterna gloria, odore, onore, altrimenti al Signor. Divina, eterna, serve non sentire, ruba in scudo al nostro cuore. I peccati rimentici al Signor, come noi li rimettiamo. Di corpuro ai nostri debitori, a te noi li confessiamo. Gloria, gloria, eterna gloria, gloria, odore, altrimenti al Signor. Di vita, eterna, serve non sentire, ruba in scudo al nostro cuore. Non indurci buon padre in tentazione, ma liberaci dal mare. Egli è il cuore, regno e salvazione, forza e gloria, 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 eterna gloria. Gloria, 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 eterna gloria, 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 odore, altrimenti al Signor. Di vita, eterna, serve non sentire, ruba in scudo al nostro cuore. Gloria, 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 eterna gloria, 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 odore, altrimenti al Signor. Di vita, eterna, serve non sentire, ruba in scudo al nostro cuore. Gloria, 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 eterna gloria, 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 eterna gloria, 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 gloria Divina eterna, serverose indietro, rompe il scudo al nostro cuore, rompe il scudo al nostro cuore. Alleluia, alleluia, grazie a Dio. Alleluia, alleluia, amén, amén. Ci vogliamo alzare in riverenza alla parola di Dio. Alleluia, aprite la Bibbia nell'Epistola ai Colossesi, capitolo 1. Leggeremo dal verso 3 al verso 14. Colossesi 1, dal verso 3 al verso 14. Alleluia, alleluia, amén. Il Signore sia lodato. Il Signore sia lodato. E benedetto in eterno. Amén. Noi rendiamo grazie a Dio e Padre del Signor nostro Gesù Cristo, facendo del continuo orazione per voi, avendo udita la fede vostra in Cristo Gesù e la vostra carità in verso tutti i Santi, per la speranza che vi è riposta nei Cieli, la quale innanzi avete udita nella parola della verità dell'Evangelo, il quale è pervenuto a voi come ancora per tutto il mondo. E' fruttifero e cresce, siccome ancora fra voi, dal dì che voi udiste e conosceste la grazia di Dio in verità. Come ancora avete imparato da Epa, nostro caro un servo, il quale è fedel ministro di Cristo per voi, il quale ancora ci ha dichiarata la vostra carità in spirito. Perciò ancora noi, dal dì che abbiamo ciò udito, non restiamo di fare orazione per voi e di richiedere che siate ripieni della conoscenza, della volontà adesso, in ogni sapienza ed intelligenza spirituale. A ciò che camminiate con degnamento al Signore per compiacergli in ogni cosa, fruttificando in ogni buona opera e crescendo nella conoscenza di Dio, essendo fortificati in ogni forza, secondo la possanza della sua gloria, ad ogni sofferenza e pazienza, con allegrezza, rendendo grazie a Dio e Padre che ci ha fatti degni di partecipare la sorte dei Santi nella luce, il quale ci ha riscossi dalla podestà delle tenebre e ci ha trasportati nel regno del figlio dell'amor suo, in cui abbiamo la redenzione per lo suo sangue e la rimessione dei peccati. Amen! Vogliamo dire Amen alla sua santa parola. Grazie nostro Padre perché seppure il mondo oramai fugge dalla tua presenza e si nasconde, non potrà in alcun modo essere risparmiato dal giudizio, perché è scritto che il mondo è sottoposto al giudizio di Dio e nessuno potrà sfuggirgli. Perciò ognuno di noi stasera mediti tutti i giorni sulla realtà della tua parola perché tu la dempirai e in modo minuzioso terrai presente ciò che tu o Dio hai predetto innanzitempo. voglia il tuo spirito ritrovare la sua libertà fra noi, nelle nostre menti come nei nostri cuori, perché per molto tempo tu hai già, o Dio, appellatoti alle nostre coscienze e ai nostri cuori senza la dovuta risposta che da parte nostra deve essere più che sensibile, più che tenera e docile nei confronti dell'amore che tu ci hai espresso e in mille modi fin'oggi ci hai guardati e liberati per amore di te stesso. che ognuno lo riconosca ringraziandoti e per mezzo di Gesù Cristo che in umiltà e in sottomissione e timore ricordiamo ed invochiamo perché solo per esso abbiamo la sicura salvezza garantitaci nel suo sangue per l'espiazione dei nostri peccati e per la nostra eterna redenzione. E tutto ciò te lo chiediamo nel nome di Gesù, nostro Signore, benedetto in eterno. Amen Accomodati Ringraziamo il Signore stasera che ognuno sia qui perché veramente ama un tempo nel quale si avrà la compagnia di Gesù e l'avremo in esclusiva c'è in un luogo laddove siamo liberi dai nostri impegni, dalle nostre fatiche, dal nostro lavoro quotidiano e dalle nostre molte e molte e molte sollecitudini che tutti i giorni non ne mancano anzi aumentano sempre di più come se la nostra vita dovesse durare chissà quanti secoli ma il tempo della nostra pellegrinazione su questa terra è un tempo già dichiarato davanti al Signore forse nessuno lo vorrebbe sapere e nessuno vorrebbe udire la voce di Dio come quella che udì Ezechia al quale fu detto disponi della tua casa perché l'ora tua è già giunta è ovvio che quell'uomo pur essendo stato un re fedele ed obbediente a Dio non si sarebbe già mai aspettato che il Signore lo avrebbe voluto preparare per portarselo via da questa terra ma ricordiamoci che è il giorno che Dio ci assegna è il giorno buono nel quale Dio ha preparato per noi la gioia di entrare finalmente nel suo riposo è vero che lo decide lui ma è anche vero che molti avendo paura di quel giorno nel quale avverrà la separazione la separazione da che cosa? dai propri cari la separazione dai propri sogni la preparazione dai propri progetti la separazione dai propri disegni futuri la preparazione di quello che per noi poteva farci sentire infinitamente gioiosi vanagloriosi e quasi quasi superbi ma ecco che il Signore ci ricordiamo tutti che è il padrone della vita è lui il padrone quelli che ho già detto più volte che si tolgono la vita lo fanno a danno proprio perché non verranno mai più e non perverranno mai più alla vita vera ma c'è invece chi l'ha perduta nel mondo fra le nazioni per amore di Cristo e Gesù stesso ha detto proprio questo chi avrà voluto salvare la sua vita la perderà ma chi l'avrà perduta per cagio mia e quindi del mio santo nome la ritroverà per sempre per sempre cioè significa non morirà già mai alleluia Signore com'è bello pensare che finalmente la morte sarà subissata per sempre non se ne avrà più nemmeno il ricordo perché inciando nella vita non si può più ricordare la morte ma entrando nella morte eterna non si avrà più la speranza di entrare nella vita vedete che differenza c'è fratelli beata è l'anima che si mette in cuore di ubbidire al Signore mentre si trova in questo corpo fratelli se noi resistiamo allo spirito non facciamo altro che strangolare la nostra anima ridurla ai minimi termini e poi alla fine prepararci non per il luogo dove si avrà la vita per sempre ma laddove la morte seconda è scritto ci separerà per sempre dalla vita vera fratelli io vi parlo in modo reale è inutile farci illusioni illusioni no fratelli da bambino Dio ha innestato dentro di me il carattere della verità come della realtà nella vita pratica è inutile farci chissà quale pensieri chissà che cosa si avrà che cosa si potrà ottenere quali saranno finalmente i miei ideali realizzati fratelli stiamo andando incontro alla fine è inutile fratelli coltivare chissà quale speranza la nostra unica speranza si chiama Gesù non ne abbiamo altre e non ce ne sono rimaste altre perché prima in un certo tempo del passato si poteva sperare in alcuni vicini e lontani che potessero avere almeno il senso della propria accondiscendenza oppure dell'immedesimazione e trasmetterci il conforto darci l'aiuto incoraggiarci in qualche modo starci vicino ma di questi tempi fratelli siamo entrati in un campo di totale isolamento io lo amo lo amo non lo dico senza fratelli averne l'entusiasmo la passione e nel contempo il diletto io lo amo grazie a Dio perché quando mi guardo attorno dico Signore la desolazione è così grande oggi lo smarrimento è così grande l'abbattimento è così grande lo scoraggiamento è così grande nel mondo oramai in fermento sono tutti gli abitanti della terra l'incertitudine e la paura il terrore del futuro cominciano a farsi strada in ogni essere umano che non riesce più a stare tranquillo in nessuna parte della terra e lo stiamo leggendo ascoltando oggi tra giornali e telegiornale la gente esce per farsi le vacanze appartarsi in qualche luogo lontano isolato dalla confusione di tutti i giorni e vedete cosa succede fratello molta gente ritorna solo da cadavere e anche quest'anno molta gente deve stare attenti fratelli perché quello che succederà durante il periodo estivo sarà molto grave fra le nazioni durante il periodo delle vacanze ve lo potete scrivere perché il sciacallaggio aumenta sempre più dato che da una parte vero è che c'è la fame c'è la desolazione e abbondano la carestia e la pestilenza ma dall'altra parte c'è molta gente che non vuole più lavorare e con la scusa che non ne trova con la scusa che non ne trova come farà a vivere fratelli allora chi rapina chi rapisce chi ruba chi defrauda il prossimo chi assassina il prossimo per amore di guadagno per amore di arricchirsi per amore a volte di pochi spiccioli mi state ascoltando fratelli forse vi siete troppo abituati a sentire queste cose e finché non capitano a certuni nel mondo ne parlano con molta leggerezza come se ormai fa parte della cronaca di tutti i giorni ci siamo abituati ma quando succede a loro fratelli la tragedia non è la stessa cosa noi popolo di Dio dobbiamo stare ogni giorno vicini al Signore perché è solo Lui che ci può risparmiare e liberare da tutti questi mali divenuti incalcolabili perché il numero d'essi è divenuto incalcolabile i giornali non possono contenere tutto quello che accade su tutta la faccia della terra si riportano le prime notizie nelle prime pagine ma il resto fratelli non lo sappiamo ma c'è qualcuno che lo sa e sa tutto di noi tutto di ogni individuo che vive su questa terra gloria al nome del Signore noi amiamo tutti i giorni affidarci al nostro Padre Celeste fin dal mattino vogliamo sentirci sotto la sua meravigliosa vigilanza e la vigilanza di Dio è molto più premurosa diligente è molto più provvida molto più più fruttifera è molto più attenta di qualunque madre che possa amare i propri figli di un amore indicibile perché la nostra vista ha una misura ed è limitata ma quella del nostro Padre Celeste non è una vista che ha una certa misura ed è limitata è scritto in seconda crona che 16 gli occhi del Signore scorrono per tutta la terra per tutta quindi gli occhi del Signore stanno scorrendo sopra di noi stasera sì siamo sotto il suo sguardo ed egli guarda bene a dentro dentro ciascuno di noi scritto per mostrare la sua forza verso tutti quelli come fa a distinguerli perché li conosce come fa a giudicarli o a giustificarli perché egli conosce tutto di ognuno di noi per mostrare la sua forza a chiunque è integro verso di Lui grazie a Dio sorelle e fratelli che ascoltate spero che la parola che Dio ci dà possa ogni giorno dentro i cuori nostri dimorare 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 e man mano ne facciamo l'esperienza noi ringraziamo il Dio e diciamo signore quello di cui ci hai parlato l'altra sera lo stiamo vivendo stiamo constatando che la tua parola è verità stiamo provando che tu sei veramente fedele stiamo vivendo che tu in realtà tieni gli occhi tuoi sopra di noi gloria a Dio egli conosce i momenti di scoraggiamento di abbattimento di desolazione di smarrimento di cuore egli conosce quando ciascuno si arrampica come può e si appiglia come riesce meglio a qualcosa a qualcuno che gli possa dare speranza sollievo incoraggiamento e soprattutto la forza di uscirne fuori dal momento difficile della propria vita oggi il Signore mi mise in cuore di telefonare ad una certa nostra sorella mia figliola nel Signore e mi mise in cuore di incoraggiarla e il Signore ha risollevato il suo stato d'animo e mi ha detto fratello io ne avevo veramente bisogno di questa parola di incoraggiamento seppure il mio raggio di comunicazione fra le nazioni e nella nazione è aumentato di gran lunga Dio non mi ha mai fatto dimenticare l'ultima pecora del suo grece gloria a Dio grazie Signore gloria a Dio ed io stasera lo ringrazio per la fede di coloro che continuano come l'edera alleluia appiccicarsi alla roccia gloria a Dio a te la lode Gesù ti ringraziamo Gesù ti ringraziamo Gesù Paolo l'Apostolo ringrazia 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 e continua a farlo ringrazia per la chiesa di Dio in Colosse la quale non venne mai meno riguardo la loro posizione davanti a Dio per la fede in Cristo che non perdettero mai per la quale fede non fallirono mai l'intento e il desiderio di restare fedeli al Signore per le loro buone opere delle quali non si stancarono mai e la loro fede crescente fu talmente onorata da Dio della quale l'Apostolo ne faceva menzione alleluia nelle sue continue orazioni alleluia come meraviglioso fratelli ricordare un'anima che resta fedele al Signore quando la consideriamo nella sua singolarità e sappiamo che quell'anima è stata provata in mille modi durante l'arco dei suoi anni servendo Dio ma qual è stato il risultato l'esito qual è stato il fine di Dio sopra queste anime che essi hanno suggellata la loro fede in Gesù Cristo con la propria ubbidienza e nella perseveranza custodendo attentamente l'amore di Dio che era già stato sparso nel loro cuore per lo Spirito Santo non si tratta di valenzia umana non si tratta perché qualcuno sia più scaltro sia più preparato o che abbia una certa maniera di esprimersi no fratelli Dio guarda la fedeltà dei fedeli e come si può essere fedeli senza fede quando voi parlate di qualcuno che è fedele ed è rimasto fedele a Dio non sarebbe mai stato fedele né sarebbe rimasto fedele a Dio senza la fede non so se mai vi siete fatta questa domanda grazie a Dio alleluia perché la parola fedele ha origine nella fede e chi ha fede in Dio non perirà giammai in quanto gli ubbidisce ed ha timor di lui ecco perché la parola di Dio dice espressamente seppur voi seppur voi vi ridurresti davanti a Dio da persone infedeli sappiate ricordatevi che lui rimane sempre fedele gloria a Dio alleluia perché egli è la fonte della fede egli è l'erogatore della fede è lui che ha trasmesso in noi questa fede perché gli rimarremmo e gli rimanessimo fedeli fino alla fine la gente ha pure fede oh quanta gente ha fede 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 in che cosa fede in se stessa fede nel proprio prossimo fede nel proprio avvenire fede nella propria carriera fede nella propria posizione sociale fede nella propria cultura fede nella propria ricchezza fede fede nelle proprie capacità mi capite poi non parliamo della fede nei confronti degli idoli del mondo fede nei propri grandi conduttori religiosi fede anche nella menzogna nelle false dottrine ovunque c'è fede tranne quella di Dio mi state ascoltando tu quale tipo di fede hai il signore disse ai suoi abbiate la fede di Dio in voi grazie a Dio qui Paolo onora e la fede e la carità dei fratelli della chiesa di Colosse grazie a Dio avevano tutte e due cose fede e carità grazie a Dio che il signore ci ridoni nuovamente questo tipo di fede operante 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 istancabile nella perseveranza nella nella lotta e anche nella realizzazione delle promesse di Dio grazie signore come ci sentiamo stasera beate l'anima che è stata davanti a Dio e l'ha cercato alleluia io mi son posto a sedere all'ombra sua e all'ombra sua significa ai suoi piedi alla sua presenza mi son posto a sedere all'ombra sua e io ho trovata pace pace in un mondo saturo di guerra di violenza capite fratelli la pace che Dio ci ha dato se la dovessimo pagare tutti i i miliardi di miliardi di miliardi che l'uomo possiede o tutte le ricchezze del mondo o il mondo materiale messo insieme con quello non potremmo pagare nulla di ciò che Dio ci ha dato perché tutto gli appartiene cosa possiamo dare a volte diciamo dare dare sì Dio ha dato a noi e noi l'abbiamo dato a lui Dio ha dato a noi e noi l'abbiamo messo a disposizione del prossimo ma fratelli che cosa noi siamo come dire un canale ecco un canale un canale speriamo che siamo dei canali di benedizione dei canali di consolazione dei canali di guarigione e dei canali anche di provvido soccorso aiuto per chi ne ha bisogno io lo chiedo tutti i giorni perché ho amato sempre dare perché ho riconosciuto nella parola di Gesù che c'è più gioia non dice che non c'è gioia nel ricevere c'è gioia ma nel dare ce n'è di più c'è più gioia nel dare che nel ricevere gloria a Dio Dio si è ringraziato grazie Signore grazie Signore perché ancora noi nella conoscenza di Dio e nella sua continua opera che egli manifesta ai figli suoi ogni giorno egli ci rapporta con Cristo no no non ci vuole rapportare con l'uno e l'altro per dire vedi la sorella ma tu ma nei confronti della sorella ma tu sei abbastanza spirituale alleluia fratelli non vi conformate mai né cercate mai di volervi comparare con gli altri perché fate il più grande dei danni alla vostra vita spirituale e morale perché alla fine non siamo giustificati se il fratello era peggio di noi o meglio di noi no 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 la scrittura dice che ogni uomo renderà conto e ragione a Dio di tutte le opere sue compiute nel suo corpo durante la vita terrena non ha detto che renderà conto e ragione a Dio nei confronti degli altri se sono stati i migliori o i peggiori se sono stati i più spirituali o i più carnali alleluia qui Paolo invece onora il Signore per tutti i suoi figlioli li mette tutti davanti a Dio perché tutti percorrono la medesima via hanno scelto la medesima opera e sono insieme consenzienti ad ubbidire alla medesima parola di Dio ecco perché tutto nasce da lì perché fede e carità insieme non sono altro che il frutto della nostra obbedienza al Signore grazie a Dio grazie a Dio stasera lo vogliamo ringraziare lo vogliamo ringraziare perché ora viviamo in un regno completamente diverso da quello in cui siamo vissuti per molti anni il nostro vecchio regno era un regno di tenebre di peccato e di morte ma oggi Dio ci ha trasportati in un altro regno che non è più di peccato ma di santità non è più di morte ma è di vita è di libertà in Cristo vive la tua vita col Signore non mancare al suo appuntamento tutti i giorni egli ti attende dal primo momento che Dio ti fa aprire gli occhi all'ultimo istante che li chiudi per riposare ricordati di avere il Signore davanti agli occhi tuoi anziché avere tutte quelle infinite immagini che da mattina alla sera la gente guarda e guardando ascolta e guardando e ascoltando cosa fa quelle immagini quelle parole entrano nella loro vita e poi si sentono estranei alla presenza del Signore e Dio loro amè 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 fratello io lo ringrazio per la parola di Dio stasera e vedrai che quando tu avrai sperimentato dentro di te questa vita che nel Signore diventa prospera e spirituale allora vedrai che tu comincerai a rilassarti come un piccolo bambino nelle mani del Signore quando non realizzi questo è perché tu non ti sei finora deciso decisa di soggettarti a questo Signore è buono infinitamente misericordioso è giusto che ti vuole fare solo il bene spogliandoti in definitiva da tutto quello che non ti permetterà in alcun modo di entrare nella vita per sempre pensaci perché questa è l'unica condizione non ne puoi trovare un'altra Amen vogliamo dire Amen alla parola di Dio spero presto che lo Spirito Santo ritornerà fra noi ed avrà la sua libertà Alleluia libertà di muoversi fra le file del suo popolo dentro le nostre stesse case sotto i nostri tetti nei nostri cuori possiamo sentire la sua meravigliosa presenza e con lui rimanere ogni giorno riguardare ed amare con tutto noi stessi e la fede crescerà e l'amore ancora insieme sulla base della sua santità nel nome di Gesù Signore nostro benedetto in eterno Amen vogliamo dire Amen al Signore che stasera ci ha voluto dare la parola diamo lode gloria e onore e il nostro ringraziamento per Gesù il quale è l'amato dell'anima mia dell'anima tua dell'anima nostra benedetto in eterno Amen Alleluia Alleluia Grazie Signore Mentre il fratello incaricato passerà per l'offerta vogliamo disporre il nostro cuore cantando la lode a Dio e ringraziandolo per la sua parola State chieti ai vostri posti sono ancora le nove venticinque abbiate pazienza perché è giusta cosa ringraziare il Signore insieme grazie a Dio grazie a Dio grazie a Dio alleluia alleluia benedetto il nome del Signore grazie Alleluia alleluia grazie a Dio Ognidì con Cristo, io l'amo sempre più, egli è salvatore, mia vita all'uomo consacrò. Ognidì con Cristo, io l'amo sempre più, egli è salvatore, mia vita all'uomo consacrò. Ognidì con Cristo, io l'amo sempre più, egli è salvatore, mia vita all'uomo consacrò. Ognidì con Cristo, è dolce camminare per me. Ognidì con Cristo, è dolce camminare per me. Ognidì con Cristo, è dolce camminare per me. Ognidì con Cristo, io l'amo sempre più, egli è salvatore, mia vita all'uomo consacrò. Ognidì con Cristo, è dolce camminare per me. Ognidì con Cristo, è dolce camminare per me. Ognidì con Cristo, è dolce camminare per me. Ognidì con Cristo, io l'amo sempre più, egli è salvatore, mia vita all'uomo consacrò. Ognidì con Cristo, è dolce camminare per me. 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 il tuo nome, Gesù. Grazie, grazie, grazie. Alleluia. Ringraziamo, Signore. Amè. Alleluia. Alleluia. Alziamo le nostre mani. Grazie per la parola di vita e di virtù che ci concedi la sera in cui possiamo stare davanti a te nella tua casa. Libera il tuo popolo dalle frenesie. Liberalo, Signore, da tutta la concimazione di questo mondo di peccato. Liberalo, Signore, da tutti gli inganni di questo mondo divenuto secolare e tradizionale. La tua presenza rimanga con noi, vivida e permanente, fino al giorno che tu ci trasferirai finalmente nella santa città. Alleluia. Ti ringraziamo. Ti preghiamo che accompagni ciascuno in pace. Prepari con grande potenza il culto di domani sera annelito e la gloria di Dio sia manifestata ancora in questa cittadina. Ci affidiamo a te perché attendiamo la tua volontà. Intanto ti stiamo servendo in qualunque luogo e modo tu lo voglia. Resta con noi e la tua presenza sia e rimanga con la nostra sorella Nunzia perché l'angelo del Signore sia con lei, guardando lei, il frutto del suo ventre e la famiglia. Lode siano resi a Gesù, il nostro Signore è Dio in tutta la settimana. La gloria tua ci sia rivelata e magnificata con potenza, benedetto in eterno. Ricordo la chiesa anche la preghiera di domani a Dio piacendo nella casa del Signore.